Una due giorni dedicata alla storia e alla cultura della birra nell'area archeologica di Belforti in comune di Piuro. Si chiama Birforti, il primo festival del lupolo promosso dall'amministrazione locale per valorizzare una specialità che a Piuro, come nel resto della valle, è stata di casa nel XIX secolo e nella prima parte del Novecento e che è tornata da un paio d'anni grazie al lavoro di ASFO+, l'associazione fondiaria che coltiva il lupolo a Borgo Nuovo, insieme alla birra di Piuro prodotta da Dulac, i protagonisti di questa due giorni di degustazione che andrà in scena sabato 30 e domenica 31 luglio, saranno quattro birrifici lombardi inseriti nella guida delle birre di Slow Food. Tante birre e buon cibo locale grazie alle associazioni che proporranno un menù di specialità del territorio, tra cui i prodotti a marchio Deco, come i formaggi della Val di Lei e la torta di Fioretto. Birfort ha l'obiettivo di valorizzare la filiera brassicola che da poco più di tre anni sta caratterizzando il lavoro della comunità di Piuro. Grazie all'associazione fondiaria, ERSAF e Fondazione Foianini, partner scientifici del progetto, si è ripresa la coltivazione del lupolo attraverso due campi sperimentali. L'idea di sviluppare la birra di Piuro nasce dalla volontà di recuperare i terreni incolti del comune per dare nuova linfa all'agricoltura di montagna. Entro il 2022 sarà realizzato anche il primo birrificio agricolo di comunità, sostenuto e finanziato da Regione Lombardia. La manifestazione si svolgerà nella cornice unica dell'area archeologica Belfort, rovina di uno dei palazzi della famiglia Vertemate di Piuro, scampato alla frana del 1618. I tour di degustazione di Birfort iniziano sia sabato che domenica alle 11.30 e la sera dalle 17 alle 23. Informazioni sulle differenti proposte sono disponibili al sito www.infopiuro.it. Assista a tutti! Grazie a tutti.